gentilissimo pubblico ancora benvenuti e bentrovati alla manifestazione tre natalizia organizzata dall'associazione di volontariato i cavaliere delle vivi grazie per la loro opera se volete ci possiamo vedere da facebook o da youtube con questo video fatemi invadrare, andiamo in internet, oggi stesso complimenti ai nostri artisti grazie per la loro opera complimenti grazie per la vostra Grazie a tutti.